Tutte le fontanelle se so seccate, no, quelle di Chieti continuano imperterriti a fornire acqua e sono quelle due delle polemiche di Viale Fratelli Pomiglio e Via dei Vestini. La presidente dell'ACA Brandelli risponde all'allarme della consigliera comunale di Chieti di azione politica Serena Pompiglio di un esposto in procura per sperpero del denaro pubblico e fa chiarezza. Allora, innanzitutto quelle due fontane hanno una funzione idraulica all'interno della rete perché sono l'utilizzo di sfiati della sovrappressione della rete. Quando si posizionano gli sfiati bisogna tenere conto di come è fatta la rete perché le rotture delle condotte invece sono terminali e se aumenta la pressione della condotta non solo si perde più acqua da quelle rotture ma aumenta anche l'entità delle rotture. Quindi quelle sono delle fontanelle ricavate da punti di sfiato dell'acquedotto giardino fatto dalla Cassa del Mezzogiorno. Non solo, la presidente Brandelli precisa anche la funzione sociale di quelle fontanelle. Perché stanno lì praticamente da 50 anni e quando sono stata lì personalmente in soli 10 minuti ho visto tre studenti in quella che sta davanti all'ospedale e all'università che riempivano le borracce. Quindi a capo benissimo con una disposizione di servizio fare un intervento tampone, chiaramente in funzione, in attesa del più ampio intervento di digitalizzazione della rete di Chieti che è previsto per il PNRR, potrebbe fare un intervento tampone. Però poi lasceremmo le persone senza quella possibilità di utilizzo che invece è entrata a far parte proprio del patrimonio pubblico. E soprattutto il numero che è stato dato è un numero non confidente, cioè non corretto. Prima di tutto perché uno sfiato non ha una portata costante quindi non si può fare la misura un minuto, moltiplicarla per 60, per 24 e per 365. Ma c'è un contatore e quindi anche a livello di bilancio idrico quella vena di acqua è controllata. E poi bisogna detrarre tutti gli utilizzi effettivi fatti dalle persone perché non si può parlare di spreco quando uno studente riempie la borraccia proprio a quella fontanella e quindi fa un utilizzo che è quello proprio. Quindi noi possiamo benissimo fare la chiusura, quindi fare una soluzione tecnica alternativa e chiudere quella possibilità. D'altra parte nel territorio comunale di Chieti siamo intervenuti già su 60 fontane che non erano delle fontane di sfiato, quindi non avevano una funzione idraulica e sono state temporizzate, cioè munite di dispositivi di azionamento. La Presidente H si rivolge al Comune di Chieti. Il Comune siamo contenti che ha capito l'impegno di ACA che dal 2017 ha fatto oltre 4 milioni di investimenti, ha fatto degli interventi puntuali e farà la distrettualizzazione dei comuni più importanti del distretto servito proprio a cominciare da Chieti. Quindi il Comune ha compreso e il Comune deve valutare se è opportuno togliere e chiudere questa fontanella e toglierla quindi all'uso pubblico.